a tutti i friends torna il nostro lorrello c'è la bello e torna il nostro buon stiamo dominando ragazzi quindi l'anno scorso con 100 di difficoltà 110 era tostissimo quest'anno è diventato molto più soft però a vedere un po germania che bello con la 205 andiamo se ne mette la marcia è una macchina tosta questa taglia poco non dai open hand ci stanno le pietre sinistra 5 200 mona sta macchina ragazzi quant'è è scattante potente attenzione frena destra 3 in sinistra 2 all'incrocio 30 minchia oh no 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 l'ora mi sono confuso si confonde il nostro lorrello a porco di azz ma già ci devo riprendere la mano perché non riesco minchia sinistra 4 corta 50 sinistra 4 corta e sinistra 3 stringi in destra 4 corta e sinistra 3 in destra 4 stringi all'incrocio e sinistra 3 in destra 4 chiude tornante destro allarga 30 senti l'aria sinistra piena tieni destra 4 e sinistra 6 corta freno pesante per tornante sinistro non tagliare 30 senti l'aria tornante destro taglia e sinistra piena lunga chiude e apre eh l'orello raga il tornante glielo molla in destra 5 corta apre in attenzione destra 4 corta stringi all'incrocio in sinistra piena 100 destra piena in sinistra piena 100 freno pesante per secca destra su cima 300 la grasse ma inizia ad acciaccare la macchina attenzione freno pesante per secca destra allarga 150 destra 4 corta non tagliare in sinistra 5 corta non tagliare 150 attenzione freno pesante secca sinistra stringi 150 sinistra 6 in destra 6 su cima in sinistra 6 lunga e destra 6 stringi e sinistra piena in destra 5 chiude su cima e apre no allora è bella tiena sinistra 6 corta taglia in destra 4 su cima in destra 4 chiude 3 e tornante su nooo l'avevo buttata raga mi stava a divertire sinistra 4 chiude in destra 3 taglia e nientra ci vuole dimestichezza per guidare ste macchine e destra 4 in sinistra 4 allarga all'incrocio e sinistra piena 50 destra 6 corta in sinistra 6 corta 30 destra 5 30 attenzione freno per secca destra non tagliare 150 sinistra 5 freno in destra 4 non tagliare e destra piena stringi 30 e destra 4 80 ehi nooo ma dai però cazzarola secca destra all'incrocio 30 ah no quando sono strette ste cazze di strade però destra 5 taglia vabbò però stiamo a divertire qual è l'obiettivo destra 6 corta taglia poco e destra 5 chiude e sinistra 6 chiude taglia 50 destra piena 50 attenzione secca destra taglia molto 80 facendo un po' di spettacolo per i tifosi destra 4 non tagliare e sinistra 5 30 freno pesante per tornante sinistro 30 sinistra 6 corta in destra 4 taglia poco in sinistra 3 lunga stringi nooo niente ah se c'erano meno male finito se no già ce ne eravamo andati sotto siamo riusciti a superare l'evendo molto bene eh raga macchina divertentissima da guidare ma ci vorrebbe un minimo di manualità che noi non ci abbiamo giustamente prova sponsor dai andiamo a fare la prova sponsor andiamo a vedere andiamo a vedere dopo il sponsor la difficoltà lasciamo qua la prova sponsor poi la aumentiamo vai ah ora 5 nell'erciuma è più totale 2 1 via non ce l'abbiamo gli sponsor ah quindi manco lo navigatore te ne va qua molto bene in sinistra 6 lunga ho disbiato e destra 5 chiude lunga 30 salta in sinistra 5 media chiude lunga 30 occhio non scivolare destra 5 chiude 100 minchia quanto scivola qua destra 5 stringe 80 destra 4 apre 100 vai l'ora e buttala destra 6 corta 100 sinistra 4 in destra 4 media a schiaffatone si dice qua e sinistra 5 lunga chiude in destra 5 30 attenzione freno pesante tornante stretto sinistro 100 ma non si vede non cazzo sto tornando non c'è va destra 4 stringe 100 prende mezz'ora apre sinistra 5 in destra 5 su cima tieni sinistra 5 in destra 5 30 destra 4 stringi media 200 salta stai al centro e destra 5 30 sinistra 4 stringe in destra 5 corta apre no oh cazzo no ok continuiamo e destra 5 30 destra 6 stringe in sinistra 5 lunga stringi in destra 5 e sinistra 5 lunga chiude in destra 6 media chiude in destra piena in sinistra piena 150 attenzione frena sinistra 3 100 e vai is Anacon è il nuovo sponsor molto bene tanto non ce lo mettiamo sulla macchina vogliamo essere immacolati come la concezione beh raga dai mettiamo un po' di difficoltà più alta cerchiamo di capire il nostro lorello ce l'ha bello allora difficoltà stiamo a giocare 110 mettiamo 120 che ti devo dire mettiamo 125 dai lunghezza rally corta perché se no dopo due ore allora non c'ho voglia di stoffare i tagli vuoi partecipare allo shakedown ai che rally è questo che non l'ho visto a estonia ma questo mi piace questo è un rally che mi piace tantissimo ragazzuoli molto bene cazzo di notte lo shakedown se parte 5 4 3 2 1 la grafica di notte è bella sono a capirci qualcosa qua salta in sinistra 4 buona che flamma sta cazzo macchina in sinistra 3 lunga e destra 2 in sinistra 3 in sinistra 4 taglia destra 2 lunga non tagliare chiude secca destra balla interna 120 20 porra porra la balla dossi in sinistra 2 e destra 3 e sinistra 6 in destra 2 2 in sinistra in sinistra in sinistra stringi 30 salta 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 e destra 5 corte e e poi abbiamo preso per le gomme extra bravo il nostro lorello lo ce la bello bravo l'orello e ehi a me quando c'ho mamma mia che flemma certa volta si parte ragazzi si parte già si ha rotto l'auto ma se non ha piato non ha toccato nulla iniziamo la giornata molto male dai vediamo a 125 se continuiamo a vincere con l'orello un'altra volta da notte via 5 4 3 2 1 via 50 destra 5 80 destra 6 corta in sinistra 6 corta su cima sinistra 5 su dosso in sinistra 6 corta stringi destra 5 su cima tieni sinistra 5 in destra 5 su cima tieni sinistra 5 in destra 5 non tagliare stringe 150 casa interna attenzione sinistra 4 media apre 30 tutto tutto dentro l'orello dai destra piena stai al centro su cima in cima destra 6 corta in sinistra 6 30 oh my god madonna sarà era partita destra 5 media e sinistra 6 corta vedi come si sono iniziate a avvicinare attenzione freno pesante secca destra stringe non tagliare in destra 4 taglia poco in sinistra 5 suddosso frena in sinistra 2 in destra 4 tieni sinistra 3 apre corta in destra 3 in sinistra 3 corta 80 attenzione sinistra 1 200 attenzione sinistra 1 50 vedo un kaiser ragazzi destra 4 chiude 50 oh è vantaggio l'orello attenzione destra 2 media chiude incrocio 50 sinistra 5 50 sinistra 4 chiude pieni destra 5 sinistra piena in destra 4 allarga 50 attenzione freno pesante secca destra in secca sinistra 30 ecco il circuito su asfalto attenzione secca destra in destra 4 corta taglia in sinistra 4 apre suddosso 80 cazzo di flemmere c'è sta macchina 350 nooo cazzo quanto ho perso ragazzi sinistra 2 apre in sinistra 2 apre in sinistra 3 apre in sinistra 4 corta su cima 30 cazzo senza da piove ma così sinistra destra 2 su ghiaia e destra 2 chiude balla interna 200 destra 100 destra piena 100 destra 5 dossi in su cima destra 5 media stringi sinistra 5 su cima stai al centro in sinistra 5 chiude vai già non ci vede smanga la nebbia in destra 5 tieni sinistra 5 corta ti sembri un po' ottimista no 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 che quella staccionata aia siamo dietro ma è tostra 125 è già più compatibile il fatto che le gomme nostre non sono adeguate sinistra 4 corta sinistra 5 corta 30 attenzione sinistra 4 in destra piena 80 destra 5 corta non tagliare in sinistra 5 200 no 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 cazzo eravamo arrivati concentriamoci eh ciao scena e sinistra 4 chiude in destra 4 200 spesso 10 secondi buoni è inguidabile cioè adesso sembra di guidare sul piazza destra piena in arrivo cazzo ardallava errore stupido banale vediamo quanto ci ha costato quelle stalla fa le riprese in mezzo a tutta stusta pioggia violenta eh purtroppo ragazzi non ci vedo bene io sono dal tonico non riesco a distinguere le cose figuriamoci ma è inchiappettato proprio al top però dai ci siamo ci possiamo giocare la vittoria anche a livello 125 non è male oh yeah mamma mia però quanti ci mette ma che cazzo è ma che me ne frega a me dell'invio dei dati dai ma vado c'è mi snerva a me il gioco quando fa così oh sana oh sana mamma mia ragazzi cioè io non lo capisco sto gioco cioè ma inviare i dati a chi a che cazzo devi inviare i dati ma fammi io qua porco zio guarda là va san d'antonio eh a lui desert 8 secondi di ritardo molto bene vai vai ho detto che ci costava 10 secondi l'incidente ma manca se carca 5 4 3 2 1 andiamo sinistra 5 non tagliare e destra 5 corta oh sto per prendere la penalità sinistra 4 corta in destra 5 corta 30 su cima sinistra 5 lunga in destra 5 e sinistra 5 corta in destra 5 corta stringe ah sembra la stessa prova speciale di prima questa è la problematica di sto gioco quelle prove speciali sinistra 3 media non tagliare sono sempre praticamente le stesse sinistra 4 stringe in destra 2 e destra 4 pieni sinistra 4 chiude ci siamo dietro pure qua minchia in destra 3 corta e sinistra 6 su cima cerca di restare in carreggiata state zitto in destra 5 chiude in destra 5 chiude in destra 6 freno pesante in destra 6 freno pesante secca sinistra 80 destra 6 media chiude in sinistra 5 chiude 3 corta stringe sì ma perché sta macchina non riesce a non auto ribaltarsi in sinistra 3 e destra piena 80 su cima sinistra 5 corta in destra 6 chiude 3 eh vai però siamo primi per poco tirata in su cima destra 3 e sinistra 4 corta stringe destra 3 corta e sinistra 3 in sinistra piena stringe Lorello prova a ribaltarsi in tutti i modi ma non ci sta riuscendo in questo momento pensa che il ribaltamento dia valore alle sue gare in destra 5 molto lunga chiude 4 in sinistra piena su cima sinistra 4 stringi su cima sinistra 3 stringe in destra 3 chiude minchia ragazzi sta tiratissimo guarda là in sinistra 5 su cima in destra 5 30 monna che tiramento freno pesante secca destra roccia interna 30 ecco praticamente vedela la per stessa pro special fatta già 6 volte destra 3 tieni sinistra 3 stringe in sinistra 3 lunga guai l'orallo in sinistra 3 in sinistra 4 taglia destra 2 lunga non tagliare chiude secca destra balla interna 120 dossi in sinistra 2 e destra 3 e sinistra 6 in destra 2 in sinistra 3 stringi 30 prova a forzare un po' l'orellolo alta grande e destra 5 corta in sinistra 2 chiude non tagliare in destra 4 50 destra 5 e arrivo ma c'ho mezz'ora becca regà però capiamo dove siamo secondo me abbiamo fatto una prova speciale questo probabilmente l'abbiamo vinto il nostro mastro birraio il navigatore più ubriaco del vrc mondiale ci ha dato bene le note sono tutte le prove speciali che so ormai non a memoria ma perché sostanzialmente ragazzi la problematica di questo gioco negli ultimi anni è stato proprio fare le prove speciali tutte uguali un minimo di varietà sarebbe stata buona però per quello che costi ve lo dico continua ad essere un giocone è un gioco che costa poco ma io volevo di più no ragazzi se costavo 80 euro e le prove speciali erano le stesse mi incazzavo ma ne costa 39 anzi ora sta ancora di meno quindi vi dico prendiamolo per buono e teniamocelo così perché va bene lo stesso chiaro che dal nuovo ci spetteremo tanto perché vedremo adesso se Codemaster come sembra da politica EA farà il gioco solo su Playstation 5 e Xbox Series X ed S perché là secondo me si andrà a vedere qualcosa di completamente diverso se esce anche su PS4 non si vede niente no cazzo non l'ho vista ah beh comunque abbiamo vinto noi la prova speciale perché abbiamo recuperato 3 secondi abbondanti bene parco assistance prepariamo la nostra vettura con il nostro l'orello andiamo a vedere pure le gomme mai mi tengo questo ancora buone andiamo molto bene ragazzi siamo a 5 secondi dalla vetta è molto tirata la battaglia vedi 125 potrebbe essere la difficoltà adeguata per il nostro livello di gentaglia che non si allena mai 5 4 3 2 1 via visitiamo l'Estonia 200 sinistra 6 chiude in destra 4 200 l'abbiamo vinta pure per 3-4 secondi di vantaggio la prima la precedente su cima destra 5 taglia in sinistra 6 corta e su cima in sinistra 5 chiude in destra 4 apre in destra 4 corta e destra 4 corta 100 su cima destra 5 chiude e sinistra 6 chiude in destra 5 frena in sinistra 4 taglia e destra 5 su cima apre in destra 6 su cima discesa finchè che bella battaglia in destra 5 in sinistra 6 stai al centro media su cima ma si è andato troppo dentro in sinistra 5 apre incrocio 50 sinistra piena su cima 200 attenzione frena tornante sinistro 30 30 mi sono andato un po' lungo attenzione a sinistra destra 3 corta su asfalto e su cima stai a sinistra in destra 5 apre e destra 4 frena in destra 5 taglia 100 80 guarda come se ne tale il motore però sinistra 2 taglia poco 80 ma stiamo facendo una bella prova speciale in questo momento destra 2 apre 80 però siamo primi attenzione freno pesante salta in destra 3 chiude in sinistra 3 corta apre in secca sinistra 30 su ghiaia secca destra in secca sinistra non tagliare 80 sinistra 5 stringe in destra 6 in sinistra 5 chiude in destra 4 media e destra 5 freno pesante 30 dai mastro birraio incrocio secca sinistra apre 80 non vedo un kaiser sta zaccato bene su cima sinistra 4 stringe 80 destra 1 300 no no sono andato un po' troppo eh porco di Eva cazzo di freno a mano attenzione freno pesante destra 1 80 su cima stai al centro sinistra 5 corta in destra 3 in sinistra 2 e destra 3 chiude oh my god oh my god e su cima destra 4 corta stringe in sinistra 3 chiude secca sinistra non tagliare balla interna 150 oh my god destra 5 corta e sinistra 5 chiude 4 media e su cima destra 6 chiude e sinistra 6 corta in destra 6 in su cima sinistra 5 corta e destra 4 lunga 80 siamo dietro glielo molla attenzione stai al centro in destra 5 in sinistra 5 questo morello sta tentando tutto per tutto in sinistra 5 stringi su cima destra 6 chiude su cima destra 5 corta in sinistra 6 50 sinistra 5 non tagliare e arrivo prova l'orello con un'ultima curva epica oh ragazzi vediamo se ce l'abbiamo fatta eravamo sul filo dei decimi l'orello fa un'ultima parte di prova speciale veramente mostruosa non lo so se voi mi dite ce l'hai fatta non lo so però ci possiamo provarci a vedere eh scivolata c'è un terreno scivoloso ma comunque che se lo sai affrontare bene bisogna anticipare parecchie le curve ti dà soddisfazioni ti dà soddisfazioni quindi adesso vediamo un po' cosa riuscirmo a combinare certamente a 125 abbiamo trovato probabilmente la difficoltà giusta perchè stiamo sempre là là nelle prove speciali e questo è bello di più non penso saremo all'altezza perchè dopo già cioè non mi allena ragazzi i primi metri che avete visto ma di questa della prima dello shakedown non ci ho capito nulla anzi soprattutto con la Peugeot perchè devo sempre riprendere la mano col volante che non uso mai col grado di rotazione particolare non è facile oh vince Lorello due secondi di vantaggio yebba siamo a meno tre dalla vetta e si cazzo ragazzi rally tiratissimo rally tirato per il nostro Lorello sta succedendo sta succedendo subito si riparte ragazzi prova spettacolo e qua Lorello può fare la differenza le vinciamo sempre di solito nevi l'autobus guarda là ma pazzesco sono anche macchine non l'avevo vista mai sta prove speciale ma pover stage ma che figata e destra due in sinistra tre corta non ci stiamo a perdere orco zio ora facciamo una cazzata e destra uno cinquanta curve stringe in secca destra balla interna trenta no pezzo da merda attenzione sinistra due contro pendenza balla interna non ci capisce un cazzo ragazzi e sinistra uno non tagliare però mi piace mi piace cose contorte a me mi piacciono non tagliare e destra due non tagliare stiamo perdendo ma l'orello adesso mette il polvo sinistra due non tagliare chiude in secca sinistra muro interno trenta attenzione destra tre contro pendenza albero interno trenta ma che figata ragazzi non l'avevo vista mai sta prova speciale non tagliare e destra piena chiude e rarrivo già siamo arrivati minchia abbiamo perso una barcazza di tempo è un po' troppo corta ragazzi vediamo farla un po' più lunga devo dire che è bella da fare ma sarebbe piaciuto fare altri giri un paio di giri sarebbe stato l'ideale perché è troppo corta così però andiamo a vedere un po' che cazzo abbiamo combinato che il nostro l'orello di solito in queste prove speciali non si esalta così corte ma come gli è rimasta una macchina di sbiego minchia abbiamo perso tre secondi nella prova di un minuto quattro secondi da Mikkelsen ragazzi ci si gioca tutto come vittorino Estonia oi ma se sono arrivati secondi vittorino Estonia è finita così ragazzi non siamo riusciti a tenere bot ma non lo sapevo che era l'ultimo pro special comunque secondo posto è la difficoltà giusta 125 e dai ci divertiremo a continuare questa carriera con l'orello ce l'ha bello ciao guagliò ragazzi volevo dare l'aggiornamento della classifica mi sono dimenticato siamo secondi 109 punti dietro Uttunenco 110 perché noi praticamente non prendiamo parte a tutte le gare perciò dobbiamo velocizzare speriamo di prendere parte al Belgio e alla Spagna che sono su asfalto per recuperare ciao guagliò oh 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 oh